Ehi ragazzi io sono Ferinichi e io sono Steph e questo gioco chiamo door porta e infatti abbiamo una porta di fronte guarda che bella Finito, finito, questo è il gioco, che cos'è? C'è una porta, dobbiamo aprirla? Non lo so, tu l'apriresti fare? Sì, sicura? Perché mi piace il pericolo E se poi dietro c'è qualcosa di brutto? Pazienza, pazienza? Sì, e se è la cosa più brutta e sbagliata del mondo? Allora sei già tu Non far ridere, non far ridere, spogli, apriresti la porta? Io non sto giocando Ecco qua, con la cedico di tanto strana Nel canale abbiamo fatto 5-6 video di Minecraft con le porte, ne abbiamo fatto uno anche su Steph e Fere con le porte, quello degli indovinelli Sì, quello degli indovinelli, c'era tipo assassino, leone, eccetera, eccetera E oggi, non ti ricordi? Io ne ho amato che era molto Senti, ma facevi ridere tu spiegando, quindi è oggi Oggi giochiamo un gioco basato sulle porte, da quello che ho capito funziona così Quanti fa? Esci alla porta numero 2 E c'è 1, 2, 3, 4 Quindi la numero 2? E tu vai la numero 2, ma è tutto a posto Adesso hai A, C, B, D E ti dice, esce la porta numero 3 E tu pensi, la porta numero 3 in ordine d'assenza a destra o A, B, C e quindi C? Eh, secondo me è C C? In ordine alfabetico, io dico che in ordine alfabetico Tua scelta, tuo rischio, tuo pericolo Era giusta? Eh beh sì Perché se no che succede? Muori? Non ho idea Ah, non lo sai? Esce la porta numero 1 Dai, è troppo semplice Mi sembra troppo facile Anche a me Vabbè È un po' strano sto gioco eh? Esce la porta numero 4 4 come numero di ordine o come i lati di una figura? Quindi il quadrato Beh se funzionava la, se ha funzionato l'alfabeto quindi andiamo dove c'è il quadrato Ok Ok Siamo fortissimi Esce la porta numero 1 E ci sono i numeri tagliati Eh però qua c'è uno Tagliato Credo E quindi è facile Ok Ok Per ora è facilissimo Per ora sì Allora Exit a the door Number error Esci alla porta numero errore Ok 1, 2, 3, 4 Che vuol dire errore? 1, 2, 3, 4 Quindi qual è l'errore? Number Ok Quindi in pratica lui non ci dice più gli indizi Nella serie ci dobbiamo arrangiare Che logica aveva Steph? Allora Exit a the door Number error R No sono bloccate Ah ti fa rinistare tutto da capo? Vabbè Allora dobbiamo trovare una logica Qui è praticamente la numero 3 Cambiano sempre No Secondo me sarà error C'è per forza la logica 2 Avevamo detto C No era diversa Era 3 E quindi avevamo scelto C Quindi questo è B Ok Ma come cambierà sempre? Non è sempre lo stesso gioco? No No Purtroppo no Numero 3 No dai E però 1, 2, 3 Da 1 Che era questo? È tutto diverso Secondo me è questa Secondo me è la 4 Secondo me è questa Secondo me è la 3 Visto? Non me l'avevi detto che era così difficile Che siamo scemi E ho detto vabbè Ma è un giochino da idioti Riusciamo a farlo subito Sarà una logica giornata Voglio il mio megafono Allora 2 quindi era B Sì Ah tu è quello Io ho il megafono lì dentro Se me lo dai Io urlo in un orecchio Ok Dove sono gli altri Quindi i tuoi tre baldi? Gli altri tuoi tre baldi Eh le ho lasciate nel divano Ok Numero 2 Quindi è questa Ok Numero 3 Avamo detto quindi il triangolo Il triangolo E fin qua va bene Numero 1 Si vedono tagliati Questo è particolarmente semplice Per fortuna E qua E qua siamo Il numero errore Qual è il numero errore? 1, 2, 3 Quando sono anche 5 lettere Quale l'idea? 4 No 3 No 2 No 1 No Non ho idea Ti giuro non mi viene niente Che me lo faccia intuire Number error Ci deve essere l'indizio però Ah Io ho provato prima 2 e 3 Quindi mancano 1 e 4 Faire peste facile 4 quindi quadrato E l'errore è la numero 4 Se non cambia No siamo ancora il numero 1 1 Sempre questa E speriamo sia la 4 Se non è la 4 l'errore Siamo fregati Finita E poi perché l'errore è la numero 4 Non lo sapremo mai Ok Ok Esce la porta numero 2 Che fortuna Che fortuna Però cerchiamo di capire qualcosa In base a che cos'è Non ne abbiamo idea Non ne ho idea Godiamoci la fortuna Te lo so E mo Non c'è neanche l'indizio No C'è un piccone Prendilo Lo possiamo prendere? Vabbè cattiveria pura Sarò Eccolo 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 Exit Adore number 2 E non funziona più la cosa dell'ordine È chiaro Aspetta Il numero di tegole? No Vero Sono uguali Avvicinati poi Sono sempre uguali E non c'è niente dietro Che ti faccio intuire Coppia e incolla Questa roba di legno È andata? Cioè sei pazzo? Io non avevo premuto Cioè sei andata a casa Sono andata dritto Perché volevo vedere E invece Cioè stai per farci perdere tutto Sì Ci ha detto la numero 2 Non faremo più questa roba In base a che cos'è questa La numero 2 a fare? Cioè? Che la numero 2 era la prima E in base a che cosa? Cioè dobbiamo capire Se noi sbagliamo adesso è finita Non abbiamo capito Quello di prima Non abbiamo capito questo Non possiamo finire il gioco No no Non lo capisco No ha senso Cioè o adesso va tutto in filo O l'abbiamo perso Occhio eh Magari c'è qualche troppola qua Che ci trancia E dovevamo iniziare No Allora ci sono Tre cose Quindi magari la tre Ci sono due archi E una cosa Una colonna Quindi la numero tre Oppure si contano le colonne Uno due tre Qua no cinque Non è un labirinto da seguire Che magari ci porta di fronte alla porta No vero No è una roba di alieni questa No prova a seguire una riga Dove ci porta una riga Tipo questa Una magari di queste Tipo i due puntini Due punti No stai 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 fermo Aspetta aspetta No non hai capito nulla Questa porta alla uno E i puntini mi portano qua E allora aspetta Numero cosa diceva? Error Cosa può essere la linea dell'error? Perché lì porta alla quattro Ho capito Questi due Mi sa che portano lì alla quattro Beh guarda è facile Questo così Porta qui Questo così porta qui Questo così porta qui E questo così porta qui Questa è omogenea E non è un errore Questa è tratteggiata E non è un errore Non posso che dovremmo Questa è già molto strana Puntini più linee E' molto particolare E questa invece Li tratteggiate E' molto semplice Questo è l'errore Era finita Io continuo a non averli capiti Sti livelli Sti livelli Sti livelli Sti livelli Sti livelli Continua a non dargli un sesso Anche io Per tua fortuna Ho trovato un poveretto Che ha capito più cose di noi Allora raga Praticamente questa Dice tre E vedete Qual è per terra Una pietra Tre pietre Due pietre Quattro pietre Due pietre Due pietre Eccetera eccetera Sì perché in pratica Sto gioco Da quello che abbiamo letto Nella descrizione Di chi l'ha creato Diceva che devi guardare Tutto quello che c'è Intrata Le ombre Gli oggetti Adesso Praticamente Questa è la porta aperta Tu segui la linea Da questa porta aperta E trovi la tua porta Quindi cambia sempre Perché in base alla porta Che è precedentemente Quella giusta E quindi L'uno Vabbè Follia sta roba E mo? E io mica Ho guardato Più avanti Così Ah non mi sbaglio I codici Steph Buongiorno Salve Salve Noi vorremmo Ah riguardiamo le pietre Noi vorremmo fare l'outro Aspetta Steph Le pietre Eh Le pietre Vedi 2 1 2 È un codice Questo 2 1 2 Quindi 2 1 E 2 Ok ma io Come li schiacciamo Quello è il problema Io non posso fare nulla Dobbiamo trovare il modo La cosa che mi preoccupa fare Io non posso fare nulla Perché chiaramente dobbiamo schiacciare questi tasti Per forza Qua Vedi No è solo un'ombra Non lo so È solo un'ombra O non è solo un'ombra No è solo un'ombra F Vedete sono questi tasti per premere Non ci sono tasti in sto gioco E come ci arriviamo a metterli Aspetta 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 E se dobbiamo passare sulle pietre Boh in qualche modo Salto sopra Non ci puoi saltare Eh no Steph Sta facendo male sto gioco Ah no cercami la soluzione anche di questo Basta vai Come si premono le cose Oh no Ok Lascio anche l'audio Per far subire anche i consolini Che poi dopo che finisci questo C'è la versione bonsai Ah bene bene Per forza Ci sono più di 100 porte Ok Mi sa che qui adesso Rimane chiuso Ok Tu devi tornare indietro E andare a provare le altre porte che c'erano No Mi sa di sì No E quindi tu non puoi aprire quella porta No è vero Finché non apri tutte le porte di tutto il gioco Io avevo il codice Quindi no Era chiaramente quello il codice Steph Quindi fatemela aprire Fatemi finire tutto Perché non va bene sta roba eh Non va bene No non va bene Sono d'accordo No sono d'accordo Non va bene Non va bene Non va bene Non va bene Cioè deve essere un gioco che Ci fermiamo così Qua sotto compaiono altri video Di altre porte Di altre cose belle Iscriviti al canale Cliccate i campionini Nel secondo che avete fatto Lasciate tanti like E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao Ciao